non lo so non avevi un ruolo specifico in miniera, moro in miniera ma che fai? ah no vado io in miniera dai ora gli fai quello che devi fare e non lo puoi scattare e chissà se il nostro picchio conquisterà ma non andalo a conquistare, lascia la fica in pace lascia la fica in pace è un pace è un gatto, lo vado a uccidere ma deficiente, è il mio gatto che si chiama cane si chiama cane il mio gatto, lascia stare allora marco maria lo sai che sono molto più eccitato del solito ma c'è questo cosi in mezzo, è vero? non possiamo toglierlo non siamo ancora esperti? no eh c'è vero niente annaffiamo, annaffiamo aspetta marco io so come eravano i culi qua anch'io lo so in che senso chi ha orecchie per odere odera odorerà 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 e 25 di stone ok ma ci sarà un motivo marco e qual è? sono tanti che sei uno stronzo morelli con quelli capelli ma non è morelli quello con quello lì è il solito lì è questo che è fatto bene è una fornace ma la missione l'ha data anche a me così non funziona? ma è una fornace finta espi espi voglio ucciderlo forse devo fare così vorrei ma che palle mi ama non voglio ho sbagliato la fornace mi sa che devo mi sa che devo fare vabbè ma che te prego vabbè ma che te prego ma non lo piscio alla fornace devo darlo ah ci manca un carbone scusate non funziona sta fornace niente sono molto bloccato di qua si può pescare comunque però non gli va bene niente non gli va bene niente sta fornace niente non gli va bene aspetti levi calaccherà anche una fornace io intanto pesco che paura cos'è successo ha ucciso la fornace ostia è andato a fuoco servono 5 di ore e un carbone mi sa che non funziona ma quale no niente 5 di ore iron ore iron o copper anche che c'è? no due occhiali consecutivi no ma non funziona ma per fare la fornace 20 di copper ore e 25 pietre ma mi sta facendo un filmato e anche a me è jazz e io? dove si andati i deficienti? ma sono due bambini che toccano ma c'è una fogna toccano una fogna ma dove si andati i cretini in villaggio? no sono andato sotto come al solito per pescare ma è sporchissima quella spiaggia tutta piena di preservativi pannolini cosa c'è la sopra? non voglio vedere anch'io voglio vedere ho fatto anch'io la missione almeno la tristezza vengo a vedere i preservativi e i pannolini bucati ma cosa sta succedendo? ecco qua ma c'è un mostro nelle fogna ma questa una volta non c'era eh sta cosa si c'era l'ho fatta io l'abbiamo toccato gli anni fa l'ho fatta c'è qualcosa che si muove ma... no nel senso quando si passava di qua l'iscursione ah eccola la cazzina io sto andando a vedere cosa c'è e anche a me è tra puntini oltre alla chiave ok finito il filmato ma c'è un mostro ma entriamo? proviamo? ma cosa dov'è adesso? aspetta che sto vedendo il filmazio ah è su? ah non è su su torniamo a casa eh infatti dov'è allora? perchè ha fatto il film? è giù? perchè è nella zona è nella zona eeeh allora sta la vogna mo era il verso di... ma sicuro? qua non c'è aspetta un attimo aspettate se non lo vedo filmato io ah forse è qua Mark aspetta che sto pescando sicuramente ti lo so un pesciolone ma non si può? c'è il ponte bloccato ah eccola qua guarda le rotture di carte igieniche chi è che c'è una missione? ah bulla qui c'è una casa mi so spaventato è una casa per me? cosa? ma scusa è un cappello è un cappello è un cappello è un cappello no? si come hai capito? è vero che c'è venditore di cappelli c'è qualche parte è un cappello eh allora è la casa per me che cazzo siete? però c'è costa... io clicca ripeto esprit tendi e vai sempre verso sinistra guarda Mark a parte che c'è la mappa puoi vedere eh lo so ma Ez non è una cosa per te non puoi comprarla vende cappelli questo vende un cappello come fa a vendere cappelli? è tutto rotto vende un cappello vende e... perché stai qua sotto voi? ah non lo so io... è che di qua c'è la spiaggia qua a sinistra ma è di qua la fogna in teoria è qua si vede anche sulla mappa Marco la fogna qua uh posso ravannare qua? grazie 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 anche a me ho preso un po' delle onion le cipolle le molle hai preso buonissime le voglio io ti incuri ma dove sei? ma sei lì? a destra da maledicare così come fossero mele ma non voglio mangiarla qui c'è una che salta con la corda chi è? hai gias uno, due, tre, quattro o... ci sono altre ancora Marco viva a prenderle c'è stanno arrivando le cose io ho perso aspetta è a destra destra? dove c'è la fogna sulla mappa vediamo che c'è le cipolle qua me le rubo ecco questa è la cosa della fogna poi non si può aprire perché c'è la chiave ah ne ho trovato una d'oro c'è qua del museo la chiave c'è il tipo del museo vabbè andiamo io vado a pescare che non voglio perdere ma andiamo Marco dove devo andare? andiamo di qua a pescare tanto va bene uguale ma non so la pesca però la c'è da casa fammi andare alla fattoria ah perché? è perché volevo fare la fattoria io fammi mangiare un seme di girasollo sgrano occhio che ho sentito senti questo Morelli vado a pescare un altro ahia che fortezza io bevo che sbappo sono un po' di problemi si può pescare nella fondo Marco perché vuoi pescare lì in fondo Marco poi vieni su in cima vieni disgraziato cambia ovviamente è più vicino alla casa almeno se bisogna andare fino in fondo è uguale non è vero si è uguale non andavamo niente Marco guarda ecco ma che porca va ragazzi per favore eh cosa ha fatto? per favore ragazzi cosa ha fatto? è imbarazzante si può guardare cosa ha fatto Marco? ho messo il cacchio nella testa eh si che si è messo il cacchio ma il cappello si è comprato? ma è terribile poi ma quanto hai speso poi? io non l'ho speso niente ma porca troia hai speso mille e si è speso mille ma non l'hai possibile io non l'ho cliccato ma si aveva un 4.500 e il cappello costa mille e il cappello costa mille ma per il cappello di merda ma per il cappello di merda no è bellissimo è il cappello della pompiera io questo ho speso mille per un cappello questo è un testo di cacchio dove sei dove sei che ti ha scappato? qua dove c'è Mark ma perché sei in fondo? tornate indietro deficienti e ma siamo qua ma che cazzo di cappello è quello? oh il tesoro il tesoro ma io il tesoro in testa ho fatto un chub ok l'ho preso ma io me ne vado Mark dall'altra Mark non importa dall'altra ha il mio record ma non è vero ma ha il mio record no ha una cappellata veramente e no perché ah forse di quel tipo di peso ragazzi noi lavoriamo sodo per un cappello da mille euro questo si questo fa la bella vita il cappello merita ecco qui vado a fare i video il mio outfit da 30.000 euro col cappello terribile si vediamo che gli outfit siano più belli come quello che abbiamo visto ho giusto un cappello per pescare buongiorno buongiorno questo pesce allora vediamo un po' ma le cipolle quelle d'oro le butto nella cassa eeeh se vuoi allora tutto ci butto anche roba di mela anche legno tutto paraparapapapa ah dobbiamo quasi tornare tra poco cos'è che è? ah se troviamo in giro la città del tipo che l'ha persa in giro per strada le la rubiamo le la rubiamo le la rubiamo le la rubiamo Marco non di là che fa schifo quel pezzo andiamo di sotto andiamo cosa vuoi stavo volendo ma guarda te io torno verso casa pesco più o meno l'anzone però sarò libero di far quello che voglio no no tu sei sotto il mio comando e ripiantate gli alberi che è un casino ma che paura che ha fatto rumore ma che non star Marco che rompa dei coglioni ma non c'ho il problema che picco ma non c'ho un cazzo scusa e mi dispiace se metti tutto io ce l'ho posso usarlo ma mi spiace per le cosine eeeh con calma però ma c'è la torre qua ma siete mai entrati? è un attore? è un attore? è un attore? è un mago quella è chiusa c'è una signorittina qua Marco per te oh questo lo butto via posso approfittarmi? che è? lea attualmente dici? lei ha quella di diablo? come si potrebbe organizzare? e lei è venuta qua è venuta qua penso che non fa più il diablo è venuta qua è già notte ma che cazzo è successo? infatti ma io mi sono ho un new record andiamo a vedere eeeh Marco Bart Dream grazie mille Bart Dream grazie Bart Dream adesso Marco ti faccio un orto che tu non hai idea guarda orto mio e io mi sono perso non riesco più a trovare il villaggio ah non posso qua il fastidio ah la faccio qua do fastidio pescherò degli occhiali rotti eh guarda do fastidio do fastidio ma che cazzo? piacere nostro Bart Dream ah ecco ho trovato la pastola aspetta Marco che pesca ah che cazzo? concentrato ok ho pescato un bel chub e andiamo a vendere ma c'è un pistrello un mostro grosso un brim ho catturato così voglio farlo io ah le fornaci fanno luce ottimo c'è vabbè 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 amici c'è uno schifoso vabbè 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 pecc'è temer vabbè fin ai cara come pagano non ti volicking vabbè 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 aiuto vabbè vabbè Ah, che mi sa l'altro non lo fa. Adesso lo fa l'altro. Vabbè dai. Vuoi spiegato un besche? Grazie mille per l'anno. Grazie, grazie mille. Sia che è Cho e Cho. Che te l'ha detto che vuole? E quanti sei ben fatto? P-H-O può essere Cho. Ah, possiamo fare l'esca? Posso craftare. No amici, allora. Facciamo una cosa, se facciamo lo zaino la prima volta me lo date a me, così vado a pescare. Ma si, lo prendo per ultimo. Quanto costa? 2.000? 2.000. Perché se no se devo andare a pescare mi stanno 3 pesche. E 2 vadano a prenderlo dai Marco. Piove. Piove. Piove, andiamo a pescare, andiamo a pescare. Aspetta che è tutto pronto. E' vero. Prendi solo che andiamo a pesca Marco. Deve ricomprare i... Ma le vendiamo? Le compiamo adesso. Mark, ho sbagliato. Mark, prendi solo la canna da pesca per andare a pescare adesso. Così... Una patata bella c'era. Anch'io ce n'è una d'oro. Ah dice che c'è una nuova canna da pesca deluxe. Ma già adesso? Eh ma cos'era un casino eh. Aspetta io devo... Ah domani c'è Lake Festival. Sì, quello delle uova. Dovremmo anche ripiantare. Vado via, non riesco a guardarlo. Però a me lo piove, io sono ripratto. Dovremmo ripiantare. Adesso sei ufficialmente ragionier filini eh. Comunque domani... Ufficialmente proprio. Vediamo se pescare qua. Domani non si fa il festival e basta. Non si fa nient'altro. Allora, ho messo via tutto tranne la canna da... Perfumare. Ma non pescare qua! No, ve lo provare con la pioggia e magari cambiamo qualcosa. Ma eh, c'è il negozio Marco! Vabbè, presto. Hai capito, si pesca presto. Ma l'esca come l'ho... Posterà un casino appena speso 1000€ per un cappello. Effettivamente! Ma per il cappello... Sì, per pescare. Sì, sì. Mi sa che non puoi mettere la sua canna a pescare la base. Non dico come funzionava. Magari la devo buttare in acqua. No, penso che devi... Ma tu stai andando a lavorare! Voglio comprare le cose dal tuo negozio! Un po' disgraziato. Eh spirit, faccio lo zaino poi vado sotto o lo prende uno di voi allora? Ma fai quello che vuoi. Ma Marco, fai quello che vuoi. Famelo prendere a me allora che pesco poi. Devi prendere anche le verdure però Marco. Eh... Ci stanno, ci siamo qui sotto. Vabbè sì, dovremmo stare. L'ho sbagliato! Non mi sono distratto! In una maniera impressionante. Sai che forse sta andando... No, è presto. Ah, per fra... 20 minuti. Aspetta, che ci vuoi fare? Pesci e pesci, pesci e pesci! No, adesso prendo negozio anche di pesca. Ne ho quanto costo nelle canine da pesca. Perché io voglio pescare Marco, ho la mia specialità. Sai che si pesca anche nelle fogne, i piovanti? Che buono! Da pesci, preservativi! Oh, posso entrare! C'è un pesci agliattivo. Vediamo un po'? Allora, vado? Eee... Ti vende il... Eh sì, Moro! Vedi dalla fiberglass road... Allo spazio per... Eee... Ingancio... L'amu... L'isla rollio! Amici... Costa 1800, allora! Sì, prendilo! Dai, prendilo! Moro, costa 1800! Non ce l'ho capito! Ok! Potremmo prenderlo! Compro le patate, allora! Potremmo prenderlo, allora! Eh sì! Quante ne prendo? 50? No, meno! Eh, nel più possibile... Quanto costano? Vedi quanto costano? 50! Sono 50! Abbiamo 22! 10 sono 500, Marco! Quindi abbiamo 2000! Quindi dobbiamo prendere al massimo 20! No, 40, scuso! 40! Prendi 40, allora! Prendi 40! Tanto poi li rifacciamo! Sì, 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 li rifacciamo! Fai conto che adesso vado a pescare, quindi un po' di soldi... E poi comunque devono darci i soldi ancora di quelle che abbiamo dato adesso, che abbiamo appena raccolto! Eh, è vero! Cosa? Eh, oggi viene raccolto tutte le robie! Eh, abbiamo raccolto, ci devono pagare! Frame is quick! Grazie mille per la sacco, comunque, per 7 mesi! Grazie! Sto pescando! Sto pescando sul molo! In teoria, la pioggia è in teoria a tirare i pesci! Quindi in teoria sto pescando sotto! Eh, io devo andare a... Eh, aspettate che devo andare a seminarli, però, allora, i semi! Sì, sì, tutti i semi hanno lì così crescono! Sono proprio un... un ottimo apicolo! Adesso dovevano apparire quelle... le cose di bolle, no? Le... Se le vedete si prendono più pesci, se le vedete! A me ci sono le bolle, qua! A me ci sono! E da me no! Dove sei tu dietro? Dai, sono... dove c'è il... tipo il mare! Io vado lì di sole! Ah, lì è il laghetto, sei! Il mare è un laghetto! Allora, non è dove vado io! Io vado al mare, proprio! In spiaggia! Eh, sono al mare, infatti! Sto vedendo se c'è un cosetto! C'è un cazzo, Marco! Vieni qua! Vieni come! 16 semi ancora! Mi butti nella casa! 16 semi! Sì! Magari, moro! Eh, niente! Ci sono i cosetti lì per pescare! Cosa pesco a fare io, allora? Ah, guarda! Non lo so mica io! Non lo so mica io! Non lo so mai... niente! Non so parlare! Sta crescendo l'erba intorno all'orto! Poi dobbiamo sistemare! Beh, ci penso io, Marco, all'erba! Un gatto? Allora! Non l'avevo capito! Io ho una mente semplice! Ho una mente semplice! Poi ci sono... Al sedi! E' vero che abbiamo sbloccato i bait in italiano? Esca! Sì! L'ho fatta io, le ho fatte 15! Però non le posso usare! Non so quanto serve! Ma se aveva la canna quella con lo spazio! Sono un cuglione! Eh sì! Do' stanno? Ma niente, ecco! Continuo a pescare i cidirotti! E non le vedo le bollicie per te nell'acqua io? Questo vuole dalla pioggia! E non ci sono! Vado a pescare un po', va! Marco, vieni come a pescare! Eccomi, Estris! Ti vedo, Marco! Ti vedo piccolissimo! Ah, l'ho già preso uno! E' la madonna! Ma che sono un coglione io! Ma che è che sto qua? Sto pescando un bocco! E' quello emo? Eh sì! Anche a me dava fastidio! Ma che fai qua? Sotto da pioggio, disgraziato! Buongiorno! 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 Che paura! Che paura! Ecco perché paura! Hai fatto uuuuuh! Non hai sentito? Eh sì, vai a fare la pesca! Ma che cacchio sto pescando, porca vacca! Ma tu per cazzo sei a pescare? Peschini a pozza! Eh, l'ago! Scusa, se non fai scordare l'ago! Se vuole sazuka! Se vuole sazuka! Se vuole sazuka! Ah, ma da 13 di energia l'alga! Wow! Eh sì! Ah beh, devo stare qua! Ma io sono un coglione! Ah, come è rilassabile! Mamma mia! Non solo la pesca, ma... Non fai cura la fattoria! Ma esperti, i miei capelli non si gonfiano così? Eh... Non so capito, si gonfiano oppure si... 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 Si stringono! Dopo ci asciugano e si stringono dopo domani! Poi diventano tutti strani! Espi, ma secondo te oggi riesco a ficcare? No! Piove! Domani al festival, magari Marco! Al festival, vero? Al festival si fanno... Si fa il cesso di sotto! Mi metto le uova nei pantaloni! Ah, che cazzo fai con i pantaloni! Puoi tocchermi le uova! No, io ne ho trovato tre! Però, non ti dico dove sono! Facciamo la caccia al tesoro! Eh beh, oh! È un modo per... Alternativo per... Mi sono disgraziato! Ho pescato finalmente! Vampè? Marco, sei capace a pescare? Sono bravissimo a pescare! Aspetta! Boh, i pesci non erano a bocca! Ho 90 ore tra Switch e PC sono di pesca! Mi cazzo è andato avanti con la trama! C'è la polizia! No, no, c'è la polizia effettivamente! C'ho 2500 milioni di miliardi! Ah, ma questo pesce mi è sgusciato via! E mi spiace! Guarda te, maiale! Io invece l'ho pescato! Non ci pesca nulla Marco con Gu oggi! Incredibile! Come chiamate la polizia? Ragazzi, ma il festival... Si sa! Un festival erotico! Un festival erotico! Si si! Un festival delle uova e delle palle! Ah, esperiti! Si possono cambiare i vestiti più avanti? Eh si! Nel inventario c'hai la maglietta da mettere! Devi comprarla però! Posso toglierla? Eventualmente! E non penso Marco! Perché non è un gioco per 18 più, ma è per tipo... Ah, tra l'altro una cosa molto interessante Esprit! A proposito! Eh! La sessualità! Cosa? Cioè puoi... Puoi... Si! Puoi... Che grezzi! Questo è fortissimo Marco! Questo pesce! Il nostro Simone che spende 1000€ per un castello a forma di bandana! Allora... Perché è un cappello bellissimo! Marco questo pescetto è tremendo! Posso aprire la cosa di pompieri! Potete andare sul gioco di bandana nella testa c'è! E' un pesce fortissimo! Aldo Giovanni e Giacomo quando gli metteva dentro il cervello la cornacchione! Marco ha preso un... un serpente? Cosa? Un serpente? Un'anguilla! Di 24... Pollici! Quattro cazzo è lui! Quattro cazzo è lui! Quattro 48 sono 60 centimetri! Che cazzo! Posso mangiare ho preso un coso di 39 pollici! Eh un metro quello! Porca matca! Dove me lo metto in casca? E' un anguilla! Ho sbagliato! E' un momento in cui mollo la mano dal mouse! C'è il tesoro ma in alto! Eh vabbè non posso! Puoi tirare un po' il pesce per prendere il tesoro e poi devi andare sul pesce di nuovo! Eh ma era proprio separatissimo! E' un pesce fino al verde! Così in cima! Eh non saliva! Non saliva! Stava troppo piano! Sai che non mi stanno più capitando regali nella pesca? Nella canna? A me me ne è capitato uno! Mi ha dato un pezzo di carbone! Ma non mi ferro nel chiulo! In realtà ne abbiamo due di pezzi di carbone! Perché ogni volta lo lasciamo per terra! Buttato via comunque! Aiuto! Eh c'è Marco! Vai in miniera! Che ti serve una roba di ferro! Eh ma andiamo tutti assieme in miniera! Poi me ne prendo io! Eh questo pesce è difficilissimo! E' difficilissimo! E' l'anguilla mi sa! Aiuto! Attento Marco! Eh l'ho pagliato! E te sto svelando tutto quanto si voglia! Aia! Mi sa anche a me l'anguilla! Perché va su e giù! Va su e che non è niente! Scappa su! Ma noi ci facciamo contro il nì che vengono dalla città! Quindi non parliamo in dialetto! Che l'ho fatta! L'ho fatta! L'anguilla! Eccola qua! Amassimo parliamo vianese! Amassimo! Hai visto l'esperienza vianese! E' vero! Ho preso tranquillo! Venturne disarma! Ciao disarma! Ho preso un pesce di 11 pollici! E lo stiamo facendo tutti! La città! Ma di nuovo è fortissimo! Cioè sti pesci sono enormi! Perché 11 pollici sono tanti per un pesce comunque! 11 pollici sono 25 centimetri! Eh beh comunque! Un'altra! 55! L'anguilla è bella lunga! L'anguilla si! 55 è veramente troppo! 55 pollici! E' un metro e un metro e un metro e un metro! Ma che cazzo! Sta diventando buio! Tra l'altro quasi tutti i pesci che ho preso sono almeno con la stellina d'argento! Faccio l'ultima pescata! Eh i miei sono solo d'argento! Due sono d'argento! Due sono d'argento! Quasi quasi un pesce costellina d'oro! Un pescatore vero! Un pesce costellina d'oro! Tentando una parte! Ma mi vedo più Esprit! Fortuna che ho la maglia gialla! Che cazzo! E' per quello che l'hai messa! Se le adoro non li ho ancora trovati! Ma hai cattoli frangente Marco! C'è una tranquilla ma è impossibile questa! Eh ma torniamo che è già... Eh sarà fortissima Marco! Ma abbiamo ancora... Aspetta no questa è impossibile ragazzi! Sono le 9! Sono fatta! Tranquilamente! 35! Segui la maglia gialla che non vedo più! Aspetta Marco! Aspetta! Dai che non mi vedo! Non so dove sto andando! Aspetta! Te lo pesce! Se pirle eh! Non ho la maglia e tutto il resto è nero! Non ho buca niente Marco! Non ho buca niente Marco! Ma non hai piantato Marco! Si che ho piantato! Ah si! Che non si vedono! Sono nero! Marco mi spaventi i pesci! Ma sentilo! Solo perchè sono diversi! No perchè si vedono solo gli occhi! Ho preso il pesci! Me ne vado Marco! Sono il cambiatore migliore del lungo! Corri Marco! Sono come i Bryant eh! Numberotto! Ma anche mai sperisci la testa comunque quando andavo subito! Numberotto! Dai prendo l'ultimo pesce e poi vado a picchiare! Ma oggi è venerdì sera ma andiamo alla taverna! Mio dio! Posso farlo? Qua! Ho un'anguilla di 55 pollici! Eh! Guardate se diceva Marco! Tutti qua sono! Tutti maschi! Ma non è possibile! C'è una vecchia! Ho tirato fuori l'anguilla! Ho tirato fuori l'anguilla! Ho tirato fuori l'anguilla! Ho tirato fuori l'anguilla! Mi tira dai pantaloni Marco! Guarda l'ho tirato fuori! Coglione! Aspetta eh! Ti tiri di ti tiri! Aspetta aspetta! Questa qui forse ci sta eh! Ma c'è questa Marco scusa! Mi siedo! Mi fa da me! No! Non voglio diragli l'anguilla! Aspetta! Posso regalargli un pesce? Ma posso spararci perché? Posso regalargli il pesce? Si è bangato! Si è bangato! Non l'ho voluto! Ah perché parla con te! Ah no! L'ha voluto si! Ti do un pesce bello! Ma il mio era bello! Ma non lo vuole! Ma poi non la corteggiare mia! Ma non lo vuole! Ma questa chi è? Ma mia! Guarda la vecchia! E' questa questa aspetta! Ma questa qua! Aspetta che c'è! Quella lì mi fa schifo! C'è Alvaro Soler! C'è un capello in lui! C'è un capello in bluser! Eh lo so l'ho vista! Era... Sono ingraziati! Marco io me ne vado comunque! Eh amici! Marco stai vedendo? Eh si! Eh! Eh! Arrivo! Arrivo! Questa è acqua con un po' di sciroppo alla menta! Perché interlazzi? Dei solo interlazzi qua! Ricordiamo noi interlazzi! Altro che! Ah porca miseria! Ma vedi che è mancato! C'è un'altra forza che fa luce! Guarda adesso non l'ho presa! Vabbè vado nel letto! Ah io sto arrivando! Ah devo buttare le cose! Eh infatti fa da cosa guarda! Piacerà lasciare la mia anguillona! Uno e due di sap! Ok! Aspetta Marco faccio una cosa intelligente per cui ci sono te coglioni! Sono zombie! Oh aspetta eh! Guarda eh! Oh la! Ah che bastardo! Bastardo! Ti hai colpito! Usa via us! Va da lettino! Ah! Lasciami stare! Lasciami stare! Lasciami stare! Lasciami stare! Lasciami stare! Oh! Ti penso io! Come disse Mike buongiorno minchiata sbrugliata un canusha patrone! Poi si treva adesso! Eh la fine! Eh l'ho ucciso! Il faccia di culo! Eh la fine! Il prossimo termobest sarà... Eh la settimana prossima! Stavo per dirlo anche io! Aspetta! Abbiamo messo i pescini della scassa! Aspetta! Dai ho 7000 euro di pesce eh! Moro! Guarda che c'è un'anguilla di 55 pollici in questo pesce! Cazzo Marco! Che minchia! Eh penso che... Quando vi dovete sposare come vi dividete la casa? Ma sai che ho dubbio che solo io posso sposarmi? No! Oh! Non gioco più eh! Vabbè che a me non interessa! Ma sai che la mia moglie funziona per tutti! Però non so se puoi allargarla a casa te! Ah dici che ti sposi in te ma ci sposiamo tutti con la stessa! Eh esatto! Eh si! La macchina alla maionese! La macchina alla pesca! Lo sprinkle è tipo quello per annaffiare? La piccolina! Si! Fatemi andare a comprare la canna da pesca subito! 1800! Io prendo lo zaino allora! Fanculo! Madò! 6500! Dov'è che si compra la canna da pesca? Io direi che tutti prendono lo zaino tranne gli Ezra eh! Direi che stiamo tutti d'accordo! Quindi qui si tiene il suo cappello! Eh ah! Prosto 1800 che ha una pesca eh! Andiamo in miniera! Aspetta! Andiamo in miniera! Io vado distruggendo l'orto qui! Vado in miniera! Eh però in miniera da solo non posso! Annaffiate! Annaffiate tutti! Eh ma c'è troppa gente! Oh è vero! Adesso vado a prendere lo zaino io! Bisogna prendere altri semi eh! Altri semi? Eh! Altri semi! Non è tutto completo! Dei festival sbighi in se... Eh è vero che c'è il festival oggi! Alle nove! Non possiamo stare in città! Che pivane! Alle nove! Per pescatore posso andare da sotto! Alle nove! No non puoi andare comunque! Bisogna intruscire! Alle nove andiamo in città eh! C'è il festival delle uova! Io per l'occasione vorrei cambiarmi però se possibile! Non puoi Marco! Ti ho visto? Oh di merda! Stesse spaglie! Infatti tutti noi avevamo lo stesso vestito da quanti giorni? 13 giorni avevamo lo stesso vestito! Ah io non l'ho mai lavato! Nien che io lo faccio sempre contadini! Andiamo? Dai che sono... Fremmo! Fremmo! Ma si fa alle nove si fa! Oh! Mi faccio una zaganella qua dietro! Ma come? Ma già con una zaganella è una cosa volgarissima! Eh! Sto qua dietro allora non mi vedete! Ti ho un gatto! Stai il mio gatto Marco eh! Assassinalo Marco! Non me lo fa fare! Mi lascia adostare Marco! Provate a tagliargli il culo mano! Eh niente mi da fastidio! Non è simmetrico mi da fastidio! Marco ti rompo tutto mi da fastidio! Io sto facendo i tamburelli! Io scusa! Mi devo fastidio che non è simmetrico una cosa! Eeeh! Ma gli devo anche questo qua! Gli devo anche male a te! Mi devo molto fastidio! Dai che sto fremendo! Allora! Ricicola il pene! Dai andiamo! E' fatta? Esprit! E' fatta? Sprigati! Ma io non ho energie! E' fatta? Ma gli dici che sei a te 40! Ho dormito poco amici! Dai andiamo! Anche io non ho energie! Morelli! Andiamo! Aspetta! Gli ed aspetta! Non cappella! Ma che schifo! Dai si fa venti le donne! Gli edzo! Gli edzo non ci viene con noi! Aspetta! Andiamo! Un di qua! Gli edzo non rimorchiamo! Ok! E' tutto buggato! Mi ho già visto un sacco! C'è Marco Columbro ragazzi! C'è Marco Columbro! C'è Marco Columbro! Ragazzi c'è Marco Columbro! Poi se ci parli è completamente diverso! Adesso voglio sapere chi mi mancava da parlarci adesso brutto bastardi! Guarda io parlo con tutte adesso! Parlo con tutte! Ma quante donne? No! Dov'è la mia? Eccola! Eccola! Chi è? La bionda? Come è? Flower dance! Ah io mi fotto Abigail! Flower dance! Anch'io voglio fare la flower dance! La flower dance! Chi è questa fata fiora? Ah questa è per partire la... Guarda Marco fammi la foto! Vai Moro! Ti la faccio io Moro vai! Guarda guarda a me non funziona! Si vede tutto! Eeeh... Sbagliato! Mi faccio una vecchia! Ah c'è anche lui c'è! Pirata! Ah va beh! Ragazzi è Marco Columbro questo qui eh! Io voglio farmi la vecchia! Qui c'è Dabu! Non sono mio rendi per te Moro quindi per la vecchia! Che palle! C'è uno che si fa le cose... Moro vieni qua! Vieni qua! Cosa ti aspetta eh! C'è uno sullo cespuglio che si fa le... C'è uno sullo cespuglio che si fa le... Dove sei? Ehi! Dove sei Marco? Guardalo! Ehi ehi! Ehi ehi ehi! Pervertito! Solo io posso! Schifoso! Schifoso! Scusa ho detto... Questa è quella l'era ha detto... Ah va che bella! Questa qui è la mia futura moglie eh! Ma sta parlando con un altro uomo! Eeeh... Cosa bisogna fare in questa cazzata? Eh no! Aspetta c'è leghunt adesso! Bisogna andare a parlare così da qui! Fammi vedere lo shop un attimo che... Dove è quel vecchiaccio? C'è una roba da comprare per... Per la stagione! E' questa qua il sindaco! Ehm... La mia danza dice flower... C'è di comprare un coniglio a 2.000 di monete! Ma siamo stronzi? Guardate dove? Cap è terribile in realtà! A tu non ti avevo parlato un tè! A te non ti avevo parlato! Dov'è? Qual è quello con i capelli blu? A questa qua! E' veramente brutta secondo me! E' un maschietto eh! E' un piccolo maschietto! Vabbè dai Marco però sempre avevo... Un uccellino! Certo! Io voglio una donna di qualità! Marco posso portare con l'egg hunt? Per favore esperi! Ma cos'è? Ehm... Nudi! 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 Ehm... Ehm... Era un albercone Marco! Era un albercone! Era un albercone! Era un albercone! Ma il bambino come si sono casati! Ehm... Vediamo chi trova di più adesso! Vai Sindaco! Dammi il via! Dai dai! Dai 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 anzi! OCC. Facciamo che chi vince si prenda i segni? Via! Ma è partito prima! Ravana, Ravana! 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 Eh spirit è partito prima! Ho preso un uovo! Uno qua Morelli! Ah bastardo! Ne ho preso uno! Vedi due! Sono un uovetto ora! Vedi? Ma quindi è calissimo? Non si può andare di sopra! Ah li ho visto! Guarda qua! Eccolo! Stronzi! Ah che vedete uno! Ma io non ne ho Ma in tutto il percorso È ovunque in città Ok Quattro E ne ho presi trovati due Ne ho trovati Ne ho quattro, guardi anch'io Cinque Passate, cinque anch'io Tre Le ho trovato un altro Le ho trovato un altro Ma non so come ci si arriva Eh, ma qui ce ne ho uno Come si arriva Ho preso Un altro Eccolo Sei Come sei, bastardo? Ma mi ha detto mona una bara Uff Ma no, sono tre L'ho visto Sì Eh, vabbè C'è uno qua dietro Come si è? No, ce l'ha visto Sì, era vinto io Ho vinto Morelli Ho trovato più buono Niente donne per me Niente, ha visto Morelli Il premio scusi Vediamo cosa è il premio Stai premendo il colluttorio, Marco? Sì C'è anche di quello, più o meno Quindi mi danno i soldi Vinco il premio grosso? Bene Quindi riscavano Carlo, carlo, vabbè Sono io E vai Che t'ha dato? Che t'ha dato? Eh, cosa mi ha dato? Ma che schifo Mi ha dato il cappello di niente Ma che schifo Ma come il cappello di niente? Fortuna non l'ho vinto io Che da me non si poteva mettere Quei cappelli Adesso lo indossi Morelli Ma come il cappello di niente? Adesso lo indossi Morelli Ma che premio è? Ma non è che quello è bello quello? Ma no, questo qui è bello È come di paglia Quello è bello Sei rufi Dai, guarda c'è bello Devono cambiare il colore almeno Guarda, Esprit qua è sistemato Ma guarda che schifo qua Guarda Andiamo a letto Domani in miniera Vado, sì Andiamo in miniera Domani faccio le cose qua Beh, ma andiamo io a terminiera Io c'ho tanto spazio adesso Posso andare? No, beh Io comunque ho tolto quasi tutto Io voglio prendere il mio zaino Ma che va bene? Prenditi quello che vuoi Basta che mi lasci le ragazze Mi devi lasciare le ragazze a me Se una ragazza ti lascio il prossimo vuoi Io ho visto Ho adocchiato Penny E la biondona PENNI? La PENNI chi è? Con i capelli Rossa È rossa con i capelli verdi Rossa Ma c'è anche lì È rossa con i capelli verdi? Rossa con i capelli verdi? No Il blu? Noi non l'abbiamo guadagnato un cavolo 95 Una patata Dobbiamo prendere anche i semi Esprit vai a prendere i semi Già che vai a prendere I semi? I semi, i semi Io devo andare a prendere la cacca da pesca E' come il cappello di laser Che l'anguila di mare E' come tutti qua eravamo Chi è? E' di queste da prendere Luan 86 o Ioan Grazie Dai prendi le cose Grazie mille, è gentilissimo Serve la merda comunque No, per capo La merda per concimare Che fastidio che non cresce mai tutto assieme Dovremmo rompere e farli crescere tutti Eh Marco Noi mini erano Se compiamo i semi bene E' cresciuto assieme Marco di me Guarda Eh non c'avevo i soldi prima Non c'avevo i soldi Tiè Ma Sto paramentapasseri devo levarlo dal cazzo proprio Ok Ok andiamo sotto Marco aspetta voglio fare una cosa Aspetta che vendo le cose Fammi andare a vendere le situazioni E' perfetto aspetta Fammi andare a vendere le situazioni E' perfetto aspetta Perché sono 8 pcg E' da qua in centro all'in fondo Tiè Andiamo Tu quanto E' io vado con un po' di segni dopo Bravo Ok voi andate in miniera Sicuri Andiamo in miniera Andiamo andando già Eh però non vedo le cose in miniera E poi io Eh ho capito C'è un codiglio O viene anche tu Andiamo giù subito con l'ascensore Sì andiamo giù Aspetta fammi ramanare Fammi buttare un po' di Anzi no Va prendo lo zaino Fanculo Ho sbagliato scusami Eh lo tango di qua Aspetta eh Sto arrivando Ah aspetta Ah c'è il vecchietto soldi No più che altro c'è la roba da mangiare Magari serve dopo Ah aspettate andare a me Un attimo Eh siamo qua all'ingresso Eh che prendo lo zaino Fa 30 minuti Cazzo troppo Vabbè intanto possiamo scendere Sì fatti scendiamo E' spiegare da un'agile venturieri Se potete dopo andare Per toccare la roba Mi ha fatto una missione di scusami Ah al decimo Oh siamo già al decimo Eccoci Vittoria Oh vedi Oh vedi Vedi io ho il castello Dopo che se crolla almeno Oh Dammi lo zaino Oh apri mi fa bro Ok ma che roba Valedetto Ok e dopo dammi Ma ho ucciso le cose Ma ho ucciso le cose Ma ho dato aperto una scala Sempre le patate o i cavolfiori Ma cambiamo Facciamo il cavolfiori E le cavolfiori sono 12 giorni Però mi sa che non è meglio Allora le patate Allora le patate vai Che ci ha comprato quell'altro Ho visto eh Uggi i soldi Morelli Che ti hai fatto? Eh sto facendo il geode Perfetto Ok E prendi il dato Marco qua ci sono le scale Anche qua Ho ucciso un paguro E mi ha dato un buco Allora le patate 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 Ah Live Arrivo Hai esplorato bene Su? Sì Vedete siete in chat Ehi Che fatta con da Allora Qui c'è la C'è un binario La mario stone mi ha dato Lì c'è la Oltre ai museo Morelli Sì sì Le do tutte e due Più te c'è la chiave della fogna Un po' Questo è stellato però Oh Stellato è caro Ok perfetto È ignore world Mettela adesso Cosa? Anche una spada È una spada qua Marco Marco Ma è incastrata Con left reward Ca 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 Ma è incastrata Ma ha dato 9 9 semi Aspetta Vai lontano Ma non so se è così No Adesso andiamo Guarda che precisione Guarda che precisione Guarda qua E' così a caso Ma dai ci abbiamo trovato una spada Il carrello si può rompere Quante conchiglie Aspetta Aspetta Che piano era? E no Mi è incastrata Ho preso tutto il carbone Un diglet E no E' bugata 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 La cyber class Devo prendere Che roba ho trovato E' bugata Ah dono più acqua Capoli che non arrivano E' uccanica E' oggi E' 8 cubetti di raggio E' arriva giusto giusto Fino in cima Dove sei andato? Ah giusto C'è tanto 8 combattili ragazzi Che l'ha preso tutti i soldi C'è una cassa Mark C'hai preso bastardo La cannappis che hai preso ma ti pare il caso? C'è una cassa qua Adesso devi pescarmi dei pisci giganteschi adesso Certo adesso sono il maestro Ho il cappellino di paglia E' morto si Ma c'è un pezzo di mezzo Ma qui è finita Mark Troviamo delle scale Ho sbagliato Ma le conchiglie le butto nella cassa O servo una cosa? Le conchiglie le puoi vendere Puoi venderle Com'è? Abbiamo anche da voi i butti bastardi Aspetta esplora bene qua Che magari c'è roba Chi è qua? Marco c'è la tua cazza Trafotto Si fa così? Siamo qua nel buco Moro di Gnato Qua c'è un posto incredibile Pieno di roba E' sceso dalle scale? Si E' pieno di roba qua E' che dobbiamo scendere ancora di due piani Per trovare la cassa Che cosa? Mi mancavi te Sì Scusi ma io Fai mangiare una cipolla ad oro Mi manca una persona con cui devo parlare Io ho finito guardi l'energia però Mi manca una persona con cui devo parlare Non c'è il cazzo sia E' anche l'abbiamo scendere Marco Dobbiamo trovare l'ascensore per trovare la cassa E non so se ce la facciamo Sto arrivando eh Anzi prima Fatemi fare una cosa Porta cibo eh No lo so con un po' che aspetti Qua moriamo Ma ci hai messo un quarto d'ora Eh ecco mi sono entrato Ti hai messo sei ore Ci hai messo Ok ci sono le missioni Ah vende la wooden blade 250 costa Ancora mica sta arrivando No no infatti adesso noi ce ne andiamo Non c'è un po' che non abbia più energia Come ti hai messo da soldi Eh no eh eh Siamo qui da Da stamattina Nel gioco Eh lo so ma ci ho messo due ore a camminare Eh andiamocene Marco Non possiamo Eh ma è la tua il 15 almeno arrivate Se no non ha senso Eh che piano siamo Ah siamo al quattordicesimo aspetto Cerchiamo il buco Arrivo eh Eh magari E' la mia missione di questa serie Ah tu qua qua Marco Andiamo nel buco Ecco con l'ascensore E' la mia missione Dove state voi in escala? Ah beh intanto abbiamo sbloccato il quindicesimo Eh troppo tardi Mi sono sceso Andiamo su Marco Marco Arrivo arrivo Vado 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 Cosa c'è lì? Dei vermi? Come ne vò Sono solo la mia adesso Niente è la fine Sono dei vermi Eh o aspetti domani Marco Ti servirò Anche io che sbloccato Ho fatto la pesca Ho bagliato Hai fatto di menta Aspetta Correggio ma che schifo Però senza energia cazzo Pescherò un pochino Vatti sotto bastardo E' tu E' male 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 Ma sei potuto poter picconare io Un geude Un geude Ricca grazie 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 mille Perchè nel ghetto Se sparano subito Se non stai Eh? Non pito hai sparato subito se non stai a marco vai a destra della miniera no a merda non posso neanche camminare io ormai sono... cos'è questo posto? è la cosa della gilde puoi comprare la spada se vuoi molto bene e fare le ischiettrici questo qua ah ok qua c'è le missioni qua qua c'è le missioni ho comprato la spada c'è le sneaker ma hai comprato la spada ma costava 2,50 costava tutto ti compri, è deficiente? non so io ma ragazzo si mette le sneaker nella canna e c'è lo spazio in quella bella e ma come... devi metterlo dentro fammi tornare a casa che... lo faccio compro la spada anzi voglio dare il pescatore io con cui è una spada puoi togliere un mark dal ghetto ma non il ghetto da mark non so come mettere però... sono proprio l'americano sto arrivando aspettate ma il gatto non gli dai da bere glielo do io guarda giusto per l'amore della pace guarda ma questi cosa fanno qua? chi è? mi interrompo allora jeezer è svenuto? eh no non posso muovere non riesco più neanche a camminare sono senza energia e vai a letto ma posso già? eh aspetta aspetta non posso aspettare voi dove sei jeezer? eh sono a letto non riesco proprio neanche a camminare ho preso un sacco di materiali si c'è un ventottettettino di persone che non ho visto nel villaggio non so chi sia moro ti metto due geod nella casa porca puttana vado dal medico ma io però non so come si mette l'esca nella canna io l'avevo fatto l'avevo trascinato e basta mi pare si infatti ma non è che l'ho sbagliato moro perché ci metti che ci sono due pezzi dopo da... che fastidio che mancano dei semi si del risultato con il ped non si può non so se ce l'ho messa ok vado a letto abbiamo tutto letto quindi niente? arrivo eh io sono già dormito che veramente non riuscivo a camminare ma c'è... agli ombri dei semi? però tornerei... miniera ancora comunque di nuovo miniera vuoi andare? si però questa volta prendiamo cibo e tutto andiamo tutti però stavolta si andiamo tutti vabbè io devo fare la pesca ho la canna nuova e poi in tre hai speso un minuto c'è? vabbè diamo il tre in tre bastiamo e appunto devo investirlo che successo? no ci metto un pochino ah si ma... la bomba è accratabile e anche la... no siamo arrivati con i film totale ah la achievement ah la c... pensavo che deve esserlo dato così 15 mila ma non ne fatti niente di pesca oggi però scusa no e oggi sono andato a fare le spese le cose capito tutto il giorno poi c'è una giornata per fare le spese si poi era domenica l'hanno chiusi i negozi mi cazzo dici? guarda che qui la gente lavora sempre si ma andiamo a... dai prima innaffiamo e poi andiamo in miniera aspetta prendo il cibo proprio che sennò eh no in miniera però abbiamo del cibo eh no ci concludiamo Gesù merda eh bisogna più... deve tenere le cose che trovi in giro in realtà cioè le cose del campo bisogna tenerle un po' ma io c'ho mettere energia già adesso ma io c'ho mettere energia già adesso eh perché sei andato a dormire senza energie eh perché eh sì devi mangiare i raiuloni vai a comprovo qualche parte di mangiare pesco, vediamo se capita qualcosa almeno ti fotti il nrg ancora di più se peschi poi nella pozza ah non c'ho più acqua voi andate in miniera che fatica qua Marco queste piante è proprio una faticaccia ma qualcuno dovrà farlo in realtà va bene se pesco l'altro hai visto che c'è uno solo lì in mezzo che manca a destra vicino a casa tua ho notato ma ci sono le bacche nei cespugli se le clicchi nei cespugli? sì perfetto ho pescato un pezzo di tiglio diventate amicissime delle signorine quali sono i cespugli scusa? non devi comprare mi piace quando prendi questi sto passando un caccia militare tutta una vita senza aver cercato se gli fai il regalo il giorno di compleanno sono più felici dai qualcosa anche a me per favore no devo fottere bianco la tua ragazza quindi siamo entrambi ah sì guarda che si sa sono geneticamente più atleti ah aspetta mi capelli non penso vabbè non c'ho trovato niente nei cespugli sono trovato niente non c'ho spugli con questo mese Marco ma ieri il compagno la tua ragazza è saltato ma ti sgazziata la tua ragazza è saltata ieri era ma non c'è giudato il pesce ma Marco Columbro che onore Esprit vieni a salutare Marco Columbro dove? c'è Marco Columbro dove stai? come? 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 fai che dire una cosa niente amici mi sa chi miniera adesso andiamo domani è lui l'ho salutato? peschiamo per non morire infatti adesso vado a pescare che cazzo è il medico? passa un altro cazzo amici ma ma cosa siamo in guerra? chi era lui? ma senti che cazzo amici ha fatto? ma scusa ma l'ho salutato ma scusa ma è lui l'ho salutato prima lo dovrei pescare di lavorare ma è proprio qui dentro è fermato lì ma non lo so stai attento che ti entra la finestra c'è un cretino Morelli mi vendi oggi te signorino wallpaper ah c'è wallpaper per cellulare anche se ti senti meglio del pesce è come regalo di compleanno ma infatti è quello che dico io allora inizio a pescare qua al molo una questa mi dà energia perca la palle quando una eh no ma sono quelli i soccorsi ma andiamo a pescare comunque sono già a pescare da un po' d'ora sei tu che sei lento andiamo a mia domani andiamo a pescare abbiamo un'energia che non va in miniera a te domani cosa cazzo ha capito eh ho capito se non va in miniera perchè non sentivo le cose ho pescato ci sono le bollicine ma sembra del trash rimani così ah il bastardo sbagliato vai oh un pesce ecco lo mettiamo qua anch'io perchè sei lì a bozza ma dai su sei nero non è vero ho pescato un pescino ho pescato un pescino romanissimo adesso facciamo capire chi è il pesce però adesso mi sposto perchè mi dà i fastidi ma che pescione perfetto ho fatto ho la canna più lunga comunque guarda eh com'è la canna quella bella la canna più lunga ah più lunga non è vero vedete un clown bianco nero dalla juve dell'udinese ho preso un tesoro marco adesso guarda qua il tesoro cos'è guarda cos'è hai preso il salmone ah 10 es che ho preso come si usavano eh le devi mettere nella canna ah ma c'è quello spazio per le esche mor lo vedete si infatti ce l'ho messo devo te al nostro punto a me non serve a niente eh dove sei tu tu puoi vedere no che cazzo ma quando mi stio mi poteva via fuori ma la fuck mi stio lo stesso vengo da voi che ho quasi finito le esche mi stai evolvendo è vero marco se non peschiamo bene però oggi qua tanto non dobbiamo venderli eh no no infatti li tenete perché? eh no ci servono per la miniera beh tu se non vuoi venire a miniera vende tu vendili sì da mangiare eh sì perché se no non ci abbiamo niente dobbiamo aspettare ma quanto è veloce quello lì Morelli rivelocissimo da me ma lì hai compato le scarpe scusa cosa fai con il cicciollino perché c'è così veloce scusa allora in realtà c'ho il cappello ci sono le scarpe ah no io c'ho le scarpe vero ma le hai comprate? ma in realtà tutte no le avevo trovate anche noi lo trovi tutti in vestibaldi eh sì ma non dava velocità non dava così veloce io però eh non lo so ma magari era gliciato eh espre dammi le le esche quanti i pesci ci sono in questo laghetto io ne ho pescati sto pescando veramente tanti anch'io dai città di fretta sono innaffiando l'acqua sì sono dieci perché buttare la città in fretta ma è veloce 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 ti ricordiamo essere carlo miocchio essere il campione internazionale veloce veloce eh eh non lo sapevo gatto che non devo innaffiare l'acqua io che ne so non so come funziona in questo mondo di ladri ma questo è tosto dai l'ultimo da me ne un altro faticazzo ogni volta me li mettere io sto sto mandando non dava velocità su amoro che scarpe hai te io c'ho gli stivaletti leader boost no non mi dispeso un'immunità e il cappello non dà niente ah mancato il pesce mi dà un bag non so un veloce ho detto anche franco mato ah che cazzo è quello t'ho visto morelli eh per lo minchio mette le scarpe cos'è hai fatto uno scatto stradissimo ma io ne so però mi dai in acqua sei pulato in acqua sei andato scusa che cazzo guarda l'alga la tengo che dà energia anche questa ma te hai gliciato tutto quanto è gliciato è digraziato che palle capo fatemi flexare di fianco a voi con la mia canna da pesca nuova capito che non ci sono lì preparata per lo 1800 disgraziato flexando infatti prendi un'ultima di te eh no eh no non li metto i pesci oh perde no c'era il tesoro ma dai lo rimane sempre nel coso verde non deve mai uscire dal coso verde ma che pare oh l'alga però è ottimo però è anche il tesoro l'alga è ottimo che dà energia una donna sulla destra dove? ma la donna quella è un uomo l'uomo ma quanti cazzo non è che c'è un festival moro? eh 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 ma c'è un festival lo vedi sul ponte ma c'è le frecce tricolore ma non lo vedo io me l'ha andata una volta a passare eh sì è il tipo di santo di targe non è una donna Marco poi sui posti eh no è un maschione incredibile lui è un maschione adesso è una signorina ha preso un altro tesoro ma mi ha dato una pietra quindi ha sbagliato eh le alghe non vendetela eh tenetela che vi do un sacco di nozioni è la signora la mettista la mettista la mettista ti devo dare un pesce marco? gli ho dato un bastoncino alla fine scusami un altro perfect un bastoncino va bene Marco io glielo ho dato e mi ha detto anche thanks come? tender cue apprezzato ha esplito non è che eh io ho quasi finito tutta l'energia però devo andare di nuovo a partire non va a finire che se non puoi volerci restare eh ma infatti io sono rosso conviene vado a letto no anch'io e mi sono partito già con metà da ieri io ho un pesce e io ho sette ho otto pesci direi che allora come pesco? quanto ne sono a ca dai Morelli peschiamo come se non ci fosse un domani domani c'è domani sarà un giorno un giorno trattore vedrai dai non ci sta questo pesce butto via la metista no metista vabbè e come lo faccio a dartelo che vantaggio ha Morelli con la canna non c'ho posto non so vuoi mettere l'esco vabbè probabilmente pesca pesci più grossi allora aspetta ho buttato via un pesce poi me ne vado già a nanna tieni esprit sì andambe la metista devo darlo a Abigail che poi posso fotterla così ma io ah io margaro siamo già dormiti io mi faccio Penny e quella bionda tutte e due modificette io sono musulmano ciao Franci ciao Franci non te Abby nel gioco capito si chiama Abby che dà anche l'arte con pa mia chiamo questo tesoro cosa mi dà per l'orno me l'ha regalata sì sì me l'ha regalata a Penny forse non parlavano sgaziati in realtà sono americano quindi sono prevalentemente cristiano come? ne gioco vengo dal vengo da Los Angeles dal Los Angeles mia mamma era italiana infatti mi ha chiamato Piscio però mio papà è americano capisco quindi sono un misto tra cristiano e musulmano quindi posso avere tante donne ma con garbo però perché stretta si stretta garbo state facendo amici che sono a letto sto pescando anch'io sono a letto anch'io sto pescando fate dopo dai anche fate dopo sono campioni ma io sto riposando anche solo stando a letto Liezar è vero cosa si riposa non sapevo è apposto allora la mattina se puoi venire a letto e ti riposo bene ho capito ma posso farlo sfaticato io per scatto uno cinque sei sette ce l'ho l'ametista ce l'ho ah no cinque sei sette otto nove cinque undici pesci un po' ne do via quelli con le stelle li do via i pesci no se vogliono più energia quelli vabbè ce ne ho cinque ce ne ho beh qualcuno danni via morlo se ne hai tanti qualcuno danni via ognuno sa i suoi ognuno sa le sue cose aspetta io ho io ho l'energia al massimo vabbè intanto che aspetto gli altri sono a pescarla ma io sono a dormire ah ok trice energie trice energie 25 energie ho buttato questi pesci trash l'alga ho buttato via anche senza fare l'alga no l'alga dà un sacco di energia vabbè io me la tengo tanto sull'uomo viene di più fiori viene di più guarda questo è veloce ha avuto abbonire le cose qua ok andiamo a dormire ah eh è mio buongiorno miniera boongiera fatta si andiamo a miniera andiamo giù subito all'ultimo piano quanto stiamo mettendo però a caricare ogni volta ah sono le 3 con il fishing posso fare un crab pot possiamo prendere crab pot è quella dei pesci eh li metti sulla sulla riva eh dipende dall'agosto tipo dipende di cose del genere io ho venduto dei cd tutto bravo marco è sì 100 è un 500 il gatto si s'allangerebbe solo io gli ho dato l'acqua al gatto ma poi è che non dà il 10 s'allangerebbe solo c'è un lago scusa è un lago e gestisci il tuo cane cosa succede? è il primavera sta arrivando? è il primavera sì è una fiamma le barbise amici sono anche due robe da vendere cazzo ma è stato 500 la mamma adesso cosa? è stato 500 gold nostra madre ma cazzo ah di chi? eh non lo so ma siamo tutti fratelli noi? ma ognuno di noi deve portare la fornace perché io non sto facendo nessuna missione eh sì 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 io non lo sto facendo che piscioni che siamo eppure dovrei essere io ok ci dice tipo che ci dice possiamo espandere la fattoria io voglio gli animali facciamo le mucche facciamo il come si chiama chiedendo se andiamo avanti no non sono deficiente facciamo il come si chiama l'italiano è finito l'acqua il pienile il pienile il range facciamo vai andiamo in minerali tutti i minerali cosa sto incinuando gatto che siamo tutti mi faccio un sonno ma come il buchile perché l'energia già l'ho consumata un chiodino solo per innaffiarle mi fa un sonno è stato arrivando in minerali no la prima era la madre io sto arrivando ma qui c'è un aramo sbagliato chi è sto tronchetto fastidiosi come su minecraft c'è un tronchetto in cima sbattante guarda te ringraziati ma la mamma mi ha dato 500 ecco qua a me quello per le ah ma per le 500 a testa vedi gli alzorci sono ah si vai a prendere allora ci sono ehi c'è spugli con le paglie di art farmer piscio vado a prendere la posta comunque mi hanno anche detto di art farmer piscio boh andiamo in miniera a questi si gatto non hai più acqua no ecco qua ciao ciao c'è ma cane comunque scusa sono apposto oh la dove siete voi due hanno la miniera sono dalla miniera e danno un botto le salbonberry dove sono queste quelle in giro che trovo in giro 15 cazzo 25 10 mica male non sono sti cosi non l'arbre eh manche male ha detto madre quindi cap ci sono per fare le sue questi mi spiace cap eccomi ho la spada bella io è disgraziato ha speso tutti i soldi tutti i soldi 250 ah lo spedio anch'io manco mi ho rifatti vendendo i cd di più non posso prendere la spada un'altra sherry bomb allora 15 dove siete mi sento ma un po' un po' un po' là però non c'ho lo zaino non mi ci sta un cazzo allora va andare ogni sigo ma è che ormai tutti quanti dobbiamo trovare la scala eh se non trovi la scala tocca a rompo questo forse è qua niente e sarà qua ragazzi ecco l'ho trovato è qua all'inizio trovato andiamo marco ok ahi bastardi ho sbagliato di nuovo tasto eh tieni combattila ma io faccio la spada mazzata di infetta mazzata di infetta mazzata di infetta ok questo mi serve la talpa eh ho trovato ho trovato la scala qua buona arrivo a destra io non riesco a prendere la macchina lì prendo io ma lì ma io non ti ho visto attaccare a caso io non ti ho visto attaccare niente c'è la talpa c'è penso io morelli c'è la cassa l'ho rotta ma le carote marce ma sembra non posso marce o quelle della miniera mangio due eeeh andiamo giù aspetta che non c'è mazzatete 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 subito ho diventato le mosche ho diventato un undici di critico porca cazzo pecchiano ma è possibile questo esplode è morta ma stavoce lo zero perchè aspettate aspettate mi ha dato un bigolo quel cos'è ok guardate con la spada cosa ho trovato tutto quanto ho fatto ho trovato l'ho portato poi al bastardo il museo ti fa vedere se c'è qualcosa e noi esploriamo tutto anche se troviamo la scala infatti che sono a volte si sono tesori in giro foto foto tutto quanto foto ok morelli scala scala altre due scala ho trovato e ritornavo sono andato giù anche qua c'è un'altra anche qua c'è un'altra puoi uscire qua io Marco morelli c'è roba qua ma che ne so in quali siete scesi però adesso in quella tutta a sinistra in basso ah ne sono due ah proprio quella in fondo il carbone ah il carbone qua guarda come siamo come siamo interessanti Marco voleva un cane scriveva un gatto eh sì esatto è stata quella la lordi esatto che si chiama cane troviamo su morelli vieni a tescai dove portano bisogna rifare i piani no attunniusco della scala no e non si può tornare in su torna all'inizio se usi la scala ma more più veloce comunque ah è qua è qua dov'è? vado giù a sinistra tutto a sinistra in alto però mò ancora un piano e abbiamo l'ascensore è lì e in te c'è un premio in te di fare un piano dai calma non c'è uti io c'ho l'alga di Brunori Sas comunque non calma Cazzo che occe Che lungo questo labirinto E' un cerchio letteralmente Una spirale scusa Con quale? E' con quale Una spirale A spirale Ma aspirale E' ok Non so Qualche essere C'è roba l'incentro Lì c'è tanta roba in mezzo Correggia Bastardo non mi è frenita me Corro Corro Lascio Lascio Non possiamo passare Cazzo Non ci passa Dì che ci passa Basta trovare una scala O rompere nel punto giusto Ma sbaglio di nuovo Ma la pesca Chi è che ha pescato Oh quanta roba Dove ti fatti Marco Le porto dove? A museo A me le porto i guanti A me le porto dal mezzo Ravanna Quanta legna Aspetta che ce n'è un'altra Ok l'altro A giù i guai sono La metista La metista Esprit Ma cosa hai fatto passare poi? Gli anelli Bastava rompere la rocca Ah pensavo che ne si potesse Con il perché Con il maio Scusa Eh scusa eh Ah si può? Ci sono vari tipi di legna qua Ah c'è l'hardwood C'è Ah so ho preso Lo small magnet ring Mi mangiare che almeno Mi mangiare Faccio spazio Eeeh Un bel po' di energia Qui ci sono le scale per andare nell'ultimo Vado Al ventesimo piano Ma uno scrigno venite qua Che apriamo insieme Sotto? Aspetta Ma c'è un lago anche Ah si può pescare C'è un lago e si può pescare Ha una spada Ah bella Oh oh Quindi la butto via La velagera All'altra si Sotto via Quattro otto più due speed Ah ricordate la mia? Eh si Bisogna pescare qua Marco Dai peschiamo Vai Poi un nuovo spazio alimentario Io ho cominciato a averne poco Anche io Ma in realtà Ma sta mandando Beh butto via Questi quattro qua Butto via Questa me la magno Ho messo le esche Almeno Questa me la magno Ah troppo forte Ma ho sbagliato un po' Dalla qualcuno Mangiala Ma che schifo Il trash Ho trovato Ma lo mangio Ma che cacchio Restorchi Eh questo Buono Le alghe mi servono Per mangiare Eh ho troppa roba Amorizzo Amorizzo Adesso Trova il pesce Quello Le caverne Ah eccolo Ma è difficilissimo Eh si Ostia no no È impossibile ragazzi Magari con la mia canna Da pescola Eh no Faccio meglio Ma che cazzo Alga Alga bianca Infilo nel direttano L'alga bianca Dai Ehm Eh no L'alga bianca Niente un'altra Alga bianca Ma Mi ha fatto Caccare il fazio Questo Scusa Scusa E perché Scusa Ma Scusi qua Di qua Ma Guarda Cucina il mio cibo Ciao capo Ma che cosa Ma basta Queste cazzate Ma allora Dov'è sto pesce Che tanto Mi è l'alga Ti è scappato In due secondi E' scappato E quindi Eccolo Io sono appunto lunghissimo Eccolo Lo prendo Lo prendo Eccolo che è Ho preso Il ghostfish Oh Perché adesso possiamo venire qua Quando vogliamo Sì infatti Un altro Un altro Vedi anch'io Anch'io Cazzo Era impossibile Questo Difficile Difficile Ce la posso fare Ce la posso fare Questa volta Mi risulta Ce la posso fare Niente Io continuo a pescare Ce la sto facendo Non sta fermo Sto pesce Ce l'ho fatta Eccolo Dai dai Oh Ah questo ho trovato io Lo stonefish Lo stonefish Ma che cacchio di faccia Cazzo Che fatica Siamo stronzi Eh ma dobbiamo Aspettate Andiamo Facciamo che andiamo Dai Almeno salviamo Ogni ora Il cord del ghostfish E io ovviamente Con la trovo Di cucchiare Che cacchio Ti prendo l'ultima cosa Ti prendo l'ultima cosa Vi prende Dai Intanto vado a posare Le cose Io Al pesce di uomo Vendo anche un pesce Oh troppo voce Troppo voce No io non lo vendo tutto Cioè vendo il ghost Ma gli altri no Perché così me li tengo ancora Io li tengo per il prossimo giro Stardo Mi pare vadano male Non vorrei sbagliando Ah ma to stonefish Un altro strongfish Che cacchio Zero Fortissimo Ormai fortissimo Eh prendiamo i soldi Ma l'algabianca cosa dà di cose? Ah 20 Non lo puoi mangiare Sì Beh non me la faceva mangiare Vedi equipaggiartela Sto arrivando a casa Ho sentito l'umore di Fammi provare E scappa E l'ho spaccato a me Sono un mestre di pesca Io ho tutti quanti i pesci Nella civil player Tutti i pescati Marco Ah non ho più spazio Hai da farmi vedere Se c'ho i soldi Eh infatti E io Positare qui Non ci ho ancora C'ho ancora i soldi Di stamattina Ah ok Non mettete tutto a caso Nella cosa bianca Mettete solo le robe belle No mette robe da maniera Ci sono le alghe Ah le alghe non ho sbagliato C'è una canna da pesca Perché? Io c'ho aspetta Fai finissi di mettere gli anelli E' una pesca E' una cosa qua di moro eh E' una pesca si Ci ho messo la mia E' una cosa che posso darlo via Tanto ho già Anche il carbone Il carbone va di là Posso tenerlo magari Non lo so Eh lo tengo Adesso posso vendere ancora Vendo l'amethista Ah sto fallo Prova a venderlo Vendo uno Li vendo Quanto non ho tre Allora vendo Gold Aspetta Adesso posso fare una cosa Basta Oh finalmente Ho troppo quel buco lì in mezzo Che ne ha fastidio Beh venite a dormire Aspetta Devo mettervi le cose Adesso che deposito l'altra spata Una me la tengo Una me la tengo E' questo qua A posto A posto Accusi Geude Arfetto Basta Artefatto Devo portare Ma bastardo Non mi attaccare Vai Vai Siamo stati bravissimi oggi Non abbiamo allargato la farmacia La farmacia Ma un po' abbiamo allargato leggermente Eh ma poco Volevo fare un lavoretto di mano Capito Ti mette sempre quelle 6-7 ore in più di noi A fare Scusami sempre Come in qualunque gioco Scusami di mettervi le robe Le robe in inventario Amici grazie mille per essere sempre con noi Eh sì Per le sub Per la partecipazione alla live Ci vediamo stasse Questa serie Mi piace molto Questa sera con Oh livello 1 di mining Questa sera facciamo Quanti soldi Stesso anticipato Stesso anticipato facciamo Guarda lo stonefish da 3.25 testa lo stonefish Ad out Ad out Adesso andiamo a pescare lì Domani Ciao belli A stasera Stasera E io non chiudo live Non c'ho voglia Marco Stai bene guarda Che facciamo quindi Guarda che palle Ma niente Non facciamo niente Facciamo niente Vabbè Non ne vado Non ne vado Basta